Non danneggiate i vostri figli rendendo loro la vita facile. Questa è la frase di uno scrittore statunitense che si trova all'ingresso del parco letterario di Cessalto, a pochi passi dall'oratorio. Un messaggio che torna di attualità nelle ore in cui si scopre che c'è anche un ragazzo del posto tra i presunti autori dell'aggressione shock a Bibione ai danni di un 33enne. Oggi dobbiamo interrogarci perché li danneggiamo, li danneggiamo perché poverino è un ragazzo. Anch'io alla sua età ho fatto queste cose, è vietato dire queste cose, dobbiamo parlare tra noi adulti a un ragazzo, mai giustificarlo. Don Bosco era contro il metodo repressivo, non dobbiamo reprimere, però Don Bosco diceva fermezza ma amorevolezza. Non amiamo i nostri figli, siccome non li vogliamo bene, cellulare, televisione e ti arrangi, fai quello che vuoi. Ecco la distruzione dei nostri figli perché non li vogliamo bene. Se li vogliamo bene chi ama educa, chi non ama se ne frega. Parole forti quelle di Don Mauro, pronto a incontrare il ragazzo e i suoi familiari così come il sindaco. Questo è il nostro ruolo, siamo anche dei educatori e quindi abbiamo il dovere di parlare con le persone. Questa mattina quando ho preso la notizia la prima cosa che ho pensato è stata a quella famiglia perché comunque è sempre una difficoltà, è sempre comunque un momento difficile da affrontare e sicuramente saremo vicini a quella famiglia per trovare anche delle soluzioni perché comunque credo che quando ricevi queste notizie perdiamo un po' tutti, perdiamo anche noi da amministratori.